Uber sbarca a Wall Street con un prezzo iniziale di 45 dollari per azione. La compagnia che offre un servizio taxi grazie ad una app installata sul proprio telefono ha una valutazione superiore agli 82 miliardi di dollari. Un dato che fa la differenza tra questa quotazione e quella di altre compagnie digitali come Amazon o Yahoo, arrivate in borsa con un valore di meno di mezzo miliardo. Secondo gli esperti la collocazione di Uber sui mercati costituisce una delle dieci maggiori operazioni della storia.